E salve a tutti amici cuperiani E bentornati in questo nuovo video di Next Day Nella speranza di riuscirlo a caricare Che non mi dà idea dei problemi come l'altra volta Perché Per chi mi seguisse nella pagina Facebook Io li pubblico se succede qualcosa Pubblico anche altre notizie, cose varie E Il video che è uscito di Next Day Che credo sia uscito era di Giovedì Mi sembra No, di mercoledì, non ricordo Però doveva uscire lunedì Ma tipo io mi ero svegliato Era al 48% Sono tornato al lavoro e era ancora al 48% E si era bloccato e non andava più Quindi poi l'ho dovuto rimettere, niente Poi vi è uscito il video E quindi speriamo che sia uscito in tempo Questo, non mi abbia dato problemi Comunque, il sondaggio è stato vinto Da Next Day Yeee Bene Allora, ho trovato il modo per Ricosare le missioni Per rifare le missioni C'era un comando Che come vedete lì Ho già fatto quest Resetted Basta fare slash Questo tasto Così Possiamo riniziare Ok, è veramente Va bene Ah, quindi tipo ogni totale Possiamo rifare Ottimo Ok E nulla Allora, la prima missione Sarebbe quella di fare Un campfire Io ho già Preso dei branch Insomma, dei bastoni Dei bastoncini Da qui Quindi basta andare Tipo in uno di questi Vediamo se mi Ok, qui Fare F E li prende Poi basta andare qui E metterne due Non questo E Ok Allora, vado in un punto Dove non c'è il campfire Tipo Qua giù in fondo E teoricamente Ora Me lo dovrebbe far Qui Però c'è il gioco Non è che c'è Ogni tanto Un qualcosina di veloce Fammelo fare Lo mettiamo qui A caso Aspettiamo che lo metta E nulla E una volta messo Niente L'abbiamo messo Abbiamo fatto la missione Ci dà quelle cose Che ci aveva detto Ok Voilà Qui vediamo Se ci fosse Del loot Quello non mi interessa Sì Ok Visto che dobbiamo bere Me ne approfitto E bevo Quindi J Perché qua mi dice zero Io l'ho fatto un campfire Brutto pezzo di merda E vabbè ma Lui mi ha riempito E vabbè Niente Mi ha riempito la cosa Ma io sono furbo E E mangio Cioè insomma Bevo questo Che mi dà entrame Quindi sono a posto Faccio Due in uno Vediamo lì se Tante volte ci fosse Qualcosa per curarsi No Ok Perfetto Torniamo dal dottore Vediamo se Ce l'ha Ce l'ha completata Perché te l'ho fatto Il campfire brutto Pezzo di merda Ah Ah E allora Sei un pezzo di merda E sei uno stronzo E c'hai La mamma Che fa un po' Le cose Le cosacce E vabbè Noi si riprende Ci vuole mezz'ora Ok Presenterà Bene Ora Amico Io l'hanno già Piazzato uno Quindi Ti devo andare qua In fondo Eeeh Che cazzo Ok Vediamo se Non lo fa fare Collect Ottimo Lo mettiamo Si riaspetta Questi 100% E ce l'ha da Bona Vero amico Bravo Ah E comunque Per chi fosse interessato C'è un modo Per Prendere Per giocare Alla Alla beta Di Code World War 2 Senza averlo Preordinato Per la Play 4 E basta Crearsi un account Provenienza Hong Kong E niente Insomma E ve lo da Gratis Io Insomma L'ho provato E' vero Lo da Gratis Però ci metto Un'eternità A scaricare E quindi E quindi Nulla Devo aspettare Le cose Devo Devo vedere Se poi Dopo funziona Che cosa Vuole Che cosa Vuole Ma io Le devo Riprendere Ma se Cosa fa Quello Cosa Fai Cosa Fai No Non si Fa Ehi Com'è che si Parlava Ehi 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 Dove Eh Ho sbagliato Tasto Scusa 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 Niente Riprendiamo Sti bastoncini Ok Cioè Anche la Prima La primissima Volta È stato Un casino Fare Sta missione Adesso Pick up Oh Bene Sta roba Non mi serve Quindi la posso Portare Direttamente Qui Ma prima Questa roba Non la dava E ve lo dico Sta roba Non la dava Prima Prima ti dava Solo il coltello Me lo ricordo Perché ero morto Di freddo Perché dopo Quella missione Non ce ne aveva dato nulla Allora In questa Cosa Non abbiamo Praticamente Nulla Di Di cose Di armi Munizioni Sì Ne abbiamo abbastanza Qui facciamo Secondo Un sort Ok Allora Ah sì La roba Me l'ha messa C'è il coltello Me l'ha messo Là dietro E lo andiamo A prendere E teoricamente La seconda missione Mi dà Una k E No No la seconda missione Mi sa che devo Craftarmi un bolt Fatto in casa Quindi quest complete Campfire Available quest Medical aid Ok capo E i coltello Ah qui ancora la pistola Senza colpi La devo mettere via Allora Quindi accettiamo Quindi devo andare lì Ma prima Vado dal mio amico Francesco Ciao Francesco Anzi lui è Vladimir Perché siamo In madre russia Lui è Vladimir Francesco Vladimir Francesco Non mi piace Vladimir Francesco Chiamerò mio figlio Vladimir Francesco Allora Eh si Vabbè io vado Nel muro Vediamo se c'è qualcosa Qui dentro Ovvio che no Oh salve Ciao Ok Dammi le cose Oh tutte e due In un bot Ah no Ok Dammi Bene Lì le cose Non mi interessano Andiamo a prendere Il nostro reward Bene 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 Pick up Oh almeno adesso Altre cure Adesso Missione da lui Bene Da lui ci sono le missioni Quelle interessanti Eh Sbagliato Tasto Accept Ok Là ci sono Eh Dove devo andare Ah Ok Allora Tiro fuori Il mio mitico A capino Comunque Cioè Siamo in pochi Ho scelto un server No con tante persone Senti siamo tutti Loother E un neutrale Ho scelto un server Con così poche persone Perché Comunque Ci saranno delle missioni In cui Avremo rotture di cazzo Da NPC Ed essendo che Sono da solo E Magari poi Arriva qualcuno Sono indiversi E non ce la faccio E quindi Non riuscirei a fare Le missioni Quindi Adesso Insomma Le faccio da solo Poi quando Magari trovo Qualche amico Con cui giocare Con cui fare Le missioni Dopo Che so che Ci sono Delle missioni Dove Devo fare Il coso Dove Dove forse andare Nel bunker Nel bunker È difficile Da solo E quindi Ho bisogno Di un amico Ora Questo ce lo taglio Uzziamo Tutto Tutto Vieni qua Bella Mestia Cioè Gli sto tagliando La faccia Quindi ci prenderemo Un pezzo di carne Di faccia Di lupo E Sono a posto Ok Guarda Sembra proprio cattivo Come lo tiene Vieni qua Ok Lo smetto Comunque parlando Un pochettino Dei futuri giochi Magari Che porterò Nel canale Io avevo in mente Allora Parlando 2018 Forse Anthem Lo vorrei portare E Sea of Thieves Quello sicuro Quello sicuro Perché ho diversi amici Che lo prendono Quello sicuro Che lo porto Ed essendo Che uscirà Perché hanno annunciato Insomma Non è che hanno proprio Annunciato Ma Con un tweet Hanno detto Hanno risposto Che ci sarà anche La Una closed beta Di World War 2 Per PC Quindi Quella la porterò Come? Lo porterò Quando uscirà Visto che l'ho Per ordinata Per chi lo sa Che comunque Io ero Ero un Un grande fan Di Di coso Di Come si chiama Di Call of Duty E niente Da Sono stato un grande fan Del 4 E Ovviamente Insomma Del Modern Warfare E poi di Modern Warfare 2 Soprattutto In Modern Warfare 2 Quello era Stupendo Poi vabbè Su Play è stato Tutto Attaccato Dai Cheater E cosi Eh ma io dovevo Andare dietro E quindi Nulla L'ho lasciato E ho iniziato A giocare Al computer E niente Quindi Sì io Io sono Sono un grande Funz E nulla Nulla E Quindi Sì io Ho preso L'unico Code Che ho preso Più avanti Poi vabbè è stato Che ca... Ok Immo Wall Che fa questo L'unico Code Che ho preso È stato L'Infinite Warfare Ma perché C'era anche Il Coso C'era anche Il Come si chiama C'era anche La Remaster Di Code 4 E quindi Non potevo Non prenderlo Perché la Remaster Sinceramente È bella Però Cioè ora Stanno aggiungendo Le cose Dei Black Ops 2 3 Le cose lì Di merda Che non dovevano fare E niente Quindi ora Non ci sto più giocando Però Però niente Non ci sto più giocando E quindi Vangulo Ah già Ma io posso Prendere la carne 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 No qui cibo E la posso cucinare Ah ma io qui C'ho ancora In mani Cosa No non lo voglio Via Lo mettiamo qua E Quindi vado qui E posso fare Cook Quasi Eh no Eeeh Che cazzo Ok Cook Ok E niente Quindi sì Io ho comprato questo Perché non c'erano i salti di merda Degli altri code È un code Con i piedi per terra E mi ricorda tantissimo Il World at War Spero che lo zombie Sia Stupendo Come era anche in Black Ops E quindi niente L'ho preso Ho speso questi 60 euro Di fiducia Anche col preordine Per avere i bonus Fighi fighi Tunz tunz Allora vediamo Questo quanto mi da Ah mi da anche water Quindi posso Però magari posso aspettare Che mi arrivi anche l'acqua Insomma che mi arrivi la sete Allora Devo fare la missione Get to the clinic In Kava Shishusha In Kava Shishusha Devo andare in là Eh